Le foto e il video realizzati professionalmente durante il vostro matrimonio rappresenteranno attraverso le loro immagini il racconto principale della giornata e diventeranno un ricordo indelebile del vostro grande giorno. Dovete implanere i sogni son desideri? Vi consiglia di scegliere la realizzazione di un racconto fotografico secondo uno stile preciso al fine di non subire l'influenza del tempo e del cambiamento della moda sfogliando il proprio album a distanza di anni. La scelta del fotografo è davvero molto impegnativa poiché il fotografo è un artista e come tale ogni sua essenza caratterizzerà ogni suo scatto. La sua personalità influenzerà nettamente il suo modo di lavorare, di osservare e catturare immagini, momenti e dettagli. Dove implanere i sogni son desideri? Vi propone lo studio fotografico Bolognini che attraverso la propria passione per la fotografia si distingue sempre per originalità e qualità rendendo così viva e unica ogni storia che è chiamato a raccontare. Dove implanere i sogni son desideri insieme a Francesco dopo aver ascoltato i vostri desideri riguardo il vostro grande giorno vi proporrà l'idoneo stile fotografico. Contattatemi affinché Dove implanere i sogni son desideri insieme allo studio fotografico Bolognini possa raccontare la vostra storia d'amore con immagini nuove e spettacolare che emozionino per sempre.